L'avvocato molisano Roberto Fagnano è stato riconfermato a guida dell'Asla di Teramo per i prossimi tre anni. A deciderlo l'aggiunta regionale, convocata in tarda serata dal governatore D'Alfonso al suo rientro a Bruxelles. L'incarico del manager era già scaduto da 11 giorni e lasciare un'azienda sanitaria senza un direttore generale non era davvero più possibile. Un lasso di tempo che ha fatto immaginare ci fossero dubbi sulla riconferma di Fagnano, nonostante i conti in pareggio dell'Asla di Teramo che si è dimostrata essere l'unica azienda sanitaria virtuosa in Abruzzo. Ora che l'avvocato molisano tornerà nel suo ufficio di circonvallazione ragusa ad attenderlo ci saranno però sfide epocali per la sanità teramana. Prima e tra tutte la realizzazione dell'ospedale unico provinciale per acuti che prevede 800 posti letto e la nomina di 15 primari in reparti fondamentali dopo la scelta fatta da alcuni di loro di lasciare Teramo e tanti altri andati in pensione. C'è poi la necessità di procedere a completare gli iter già iniziati per le nuove assunzioni e stabilizzazioni vista la cronica carenza di personale. Accanto a lui resteranno con grande probabilità sia il direttore amministrativo Maurizio Di Giosia, il cui contratto scade a dicembre prossimo, sia la direttrice sanitaria Maria Mattucci in scadenza nel 2018. Del resto squadra che vince non si cambia.